VONOOOOOO oh oh che poteva oh yeah guardate come dare questo combo ma non ci riesco è una rottura giusto? è una rottura ben tornati in questo nuovo video sono TonyGamer17 ragazzi ho voluto fare un piccolo esperimento visto che in passato ho giocato a Fortnite quindi volevo capire come hanno fatto a fare questi personaggi su Unreal Engine quindi ho smanettato un po' e come potete vedere io se schiaccio W lui non cammina non cammina ok non cammina quindi che cosa ho fatto? sono uscito da questo vabbè dal gioco così ho cliccato sul personaggio e come potete vedere qui c'è la gravità l'accelerazione della della corsa e della camminata quindi in questo caso si adesso da 3,31 e poi eccetera se aumento un altro po' mettiamo non so 30 ok oh yeah guardate qua ok ok e adesso voglio aggiungere un cubo facciamo così dai un cubo ok allora dov'è che si faceva geometria un cubo eccolo qua perfetto ecco qua ok e ci vorrà un bel po' eh quindi adesso voglio saltare questo cubo ma non ci riesco è una rottura giusto? è una rottura quindi se adesso faccio così faccio qua ok la gravità mettiamo adesso volo ok non salta non salta non salta la gravità è troppo bella pesante quindi ho sbagliato devo scendere e vai volo oh che poterlo no 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 potevano mettere il salto così su fortnite no no va bene va bene va bene va bene va bene perfetto 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 mi piace mi piace salto pure ok salto pure è perfetto è perfetto ok questi vabbè sono i movimenti del personaggio quindi salto vado qua e là destra e sinistra avanti ok puoi scendere scendi no ti prego scendi eh non scende più ragazzi non scende più no ci stiamo allontanando eh ok quindi meno 4 perché fa così no quindi se io no quindi se io faccio così eh zero non dovrebbe volare e niente vola vola ok ok ci siamo ci siamo ci siamo di questo dai sto nello spazio ok ci siamo perfetto sembra un ballerino e niente ragazzi oggi abbiamo imparato un po' i movimenti era per mia curiosità per capire un po' e quindi se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale lasciate like sul video se ti è piaciuto e noi ci vediamo ad un prossimo video quindi ciao a